ogni quattro anni c'è un'altra olimpiade l'olimpia cup l'olimpiade delle poli sportive di base solo otto di loro accedono alla fase finale per farlo servono punti sportivi ma anche punti etici perché lo sport vero è così campioni ma con stile quest'anno all'olimpia cup la sfida è soprattutto tra due poli sportivi la compagnia del bracciale contro la red scorpio bene contro il male e in palio non c'è solo una coppa ma la felicità grazie a tutti